Cosa succede se un boss della malavita... Ho qui davanti a me il boss di Scavafosse. Inseguito da due intrepidi poliziotti. Ce la possiamo fare? Andiamo, così. Andiamo, andiamo, andiamo. Maremma scinghiala. Decide di cambiarsi la faccia. È identico. Sono tale quale a Leonardo. Leonardo. Di Caprio, Leonardo Di Caprio. Di Caprio. Con la O. Ma che cazzo avete combinato? E adesso? È meglio darsela a gambe. Scappiamo, dai, corri. Sti cazzo di bende. Che è successo? Peppino Di Caprio. Mi so con boss! Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Non mi piace che la gente mi guardino. Vuoi favorì? Vada per la forchettata. Perfacchettore mio. Tu sei sicuro che vestiti così passeremo inosservati? Ma tranquillo, fidati, no? Di-fi-ce-i-mi-te. Con questo spray, gli alcechi. E tu con questi che ci fai? Che cosa siete voi? Di-fi-ce-i-mi. Sparite! Natale col boss. Dal 16 dicembre, scappate al cinema.